Il sogno è sempre lo stesso. Tutto ok? L'abbiamo trovata. Ci stiamo avvicinando ad una forma di vita. Forza, muoviamoci gente. Erano venuti per svelare un mistero. Non vedo come una qualsiasi forma di vita possa sopravvivere qui. Erano venuti per scoprire un'antica verità. Ecco, è qui. La dottoressa Ross ci ha aperto la strada. Direi di entrare. E invece... Ma che diavolo è? Hanno scatenato una forza che l'universo non ha mai conosciuto. Maledizione che sta succedendo! Quello che vi attende con la prossima evoluzione della realtà. Occhio ragazzi, stanno arrivando! Spara nella bocca! Oh! Questa non è una favola. È la realtà. Spara nella bocca! Grazie a tutti.